La Cannottieri Bissolati è di nuovo pronta per accogliere soci e atleti nei suoi spazi e nei suoi implanti sportivi. Quest'anno, per i soci e per chi si associa, quota sociale annuale ridotta, possibilità di affiliazione temporanea. Per info su modalità e condizioni, contatta la nostra segreteria. E se diventi socio l'anno prossimo, quando hai versato come affiliato, ti verrà scalato dalla quota d'ingresso che è dilazionabile in 5 anni. A tua disposizione trovi una palestra panoramica, percorso vita attrezzato, 4 piscine di cui 2 riscaldate, 11 campi da tennis di cui 2 al coperto nel palazzito polivalente, 2 da calcio di cui 1 illuminato, 2 da beach volley, 1 da basket e 6 da bocce. Imbarcazioni sul fiume, scuole federali di canottaggio, canoa, tennis, nuoto, pallanuoto e bocce.